Siamo con Damiano Pilot, assistant coach del Basket Roma, per commentare questa gara 3, questo terzo atto di questa finale di playoff. Damiano ha vinto Rieti 80-70, naturalmente non è finita, adesso Rieti avrà il match point, ma si giocherà comunque al Paladiziano e speriamo anche lunedì che sia ancora più gremito rispetto ad oggi, visto la contemporaneità con il calcio. Che gara è stata Damiano? È stata una gara che conferma come questa serie non abbia un padrone, perché dopo gara 1 e gara 2, che hanno vissuto due partite parallelamente diverse, oggi abbiamo visto come si tratta di episodi, la partita può cambiare per degli episodi. Oggi è stato il caso del nostro terzo quarto, in cui le nostre percentuali sono scese, probabilmente anche per un po' di stanchezza e delle scelte non brillanti. E anche qualche in-out, 3-4 tiri dell'Eurobasket, non entrati per anche un po' di sfortuna, no? Siamo stati sputati dal ferro proprio. Mentre Rieti in quel momento ha trovato delle conclusioni, si è acceso Gianpaoli, che ha piazzato praticamente da solo un break decisivo e non siamo riusciti a rosicchiare quel distacco che si è creato in quel momento lì della partita, che ci siamo portati fino alla fine. Comunque abbiamo detto ai ragazzi, non è finita, abbiamo dimostrato che possiamo fare tutto in questa serie e siamo consapevoli di poter dare ancora tanto in gara 4. Ecco, un messaggio per chi naturalmente ci dovesse seguire appunto prima di gara 4 per farli venire qui e seguire questa serie. Quanto meno ci sarà questa quarta gara in speranza di tornare nuovamente a Rieti. Beh, devo dire oggi il segnale comunque è in comitanza con la finale di Champions, c'era tanta gente qui e questo mi fa molto piacere. E penso non sia difficile appassionarsi a questo sport e a questa squadra, perché abbiamo dimostrato anche oggi, nonostante quella ammazzata del terzo quarto fosse stata abbastanza forte, che siamo una squadra che non muore mai. Perché comunque nell'ultimo quarto ci abbiamo provato con tutte le nostre forze. Quindi l'augurio è che ci sia tanta gente in gara 4, che sia il sesto uomo in campo e sperando di potergli regalare una grande soddisfazione. Miano, prima di ringraziarti e salutarti, secondo te c'è più stanchezza fisica o mentale in ambo le squadre? La dirà della tensione e della pressione, che se forse la pressione in questo momento ce l'aveva, poi vedremo un po' Rieti perché comunque doveva salire anche l'anno scorso, insomma, con tutto poi che l'erobasca ha dimostrato di essere all'altezza anche in questo pelofo di Rieti, però cosa incide di più? Quella stanchezza mentale, fisica, la pressione o un po' tutti questi fattori messi insieme secondo te? Sicuramente tutti questi fattori messi insieme fanno arrivare le due squadre a gara 4 stanche. Penso più dal punto di vista mentale che fisico, perché comunque Rieti è una squadra lunga, è una squadra che ha rotazioni, che può arrivare tranquillamente a ottavo, nono e anche decimo giocatore, e noi uguali. Quindi forse per la stanchezza fisica le rotazioni ci possono dare una mano, però c'è stanchezza mentale, questo indubbiamente, da parte di tutte e due le squadre e l'approccio di testa alle prossime partite sarà fondamentale. Lo è stato da gara 1 e lo sarà fino all'eventuale gara 5.